che quest'anno nel 2023 ha vissuto una stagione straordinaria tanto da vestire anche la maglia iridata di campionessa del mondo stiamo parlando di Anita Baima, Anita buonasera buonasera ma che cosa si prova a essere sul tetto del mondo, la più forte al mondo? è un'emozione indescrivibile, ancora adesso a volte non me ne rendo bene conto